già muoio ok e c'ho dietro ma dai mannaggia vita muo' arte albù ben c'è boh vabbè dimmi come ho preso gesù la testa 1 no ali 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 al primo che muore un coglione e non mi chiede se si muovano basta no rega se rimanete ok oddio c'è toretto pochettino sono partite un po' di cose in camera di gioia la parola roma io ho paura oddio rica sono host aspettate che spengo un po' di wifi in giro roma è la prima volta in tutta la mia vita che sono host rica fatemola godi no sta arrivando dallo spawnshot mi sa rega occhio ok adesso no mannaggia 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 un tipo o no rai 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 no rica stavo già in doppia e giocchi non è la roma la tonna di dio e albergo a parte più più no 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 allora mamma mi il marco mettiamo in cielo delle cose dio non è una persona buonissima che è la quale guarda cosa lo cosa stai dicendo io non c'ho del c4 là dentro no oh ecco buona buona io sto già esploso tipo che culo come tu no chi su porca troia e assist è tua madre assist e mi sto trattenendo dai e giochi puttana morta puttana come? puttana come? puttana morta morta morto chillo 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 vai 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 bello oh vai giochi alè cos'è ahahah ahahah sempre più belli dei trick di Deca così a caso rega guardate giù il temerario giù è morto giù è morto oh 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 c'è un amici che si disdentro oh c'è un amico oh 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 ma oh 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 Dai Dio porco, su, su, via